Abbiamo analizzato l'opera, quindi io ho deciso di utilizzare la parola libertà e con questo termine ho voluto creare il mio oggetto utilizzando di base uno skate e delle ali che appunto definiscono questa parola, però abbinandolo anche con il rischio perché comunque lo skate cadendo fa male e quindi ho realizzato l'opera così Le ali si batte da me a mano, le ho dipinte io e ho utilizzato il cartone e le piume e niente Ho lavorato, ho chiesto l'aiuto di alcuni miei compagni che mi hanno aiutato nella realizzazione di alcuni personaggi Filippo, Filippo Benetti e Giuseppe e Filippo Ciccio che mi hanno aiutato nella realizzazione o se no da solo non sarei mai riuscito a concludere, mi ritengo Dopodiché ho realizzato un testo là E' stato molto interessante elaborare un percorso da far compiere ai visitatori E' stato molto interessante e bello poter avere carta libera, molto carta libera E sta funzionando E' stato molto interessante e bello poter avere carta libera